E' arrivato direttamente dalla capitale per fare una sorpresa al Roma Club Andria. Lui è Romolo, il lupacchiotto mascot dell'AS Roma, inviato dal sodalizio giallorosso per andare a premiare i tifosi romanisti andriesi per l'impegno e la partecipazione ad un progetto di solidarietà avviato proprio dalla società dei Fredkin. In occasione dell'ultimo derby romano infatti, il team giallorosso aveva avviato un progetto dal titolo Inside the Derby con l'acquisto di biglietti virtuali, vista l'impossibilità di seguirlo dal vivo a causa della pandemia. Il Roma Club Andria aveva acquistato ben 44 biglietti virtuali utili a sostenere il progetto a scuola di tifo. Un'idea nata per far crescere la cultura dello sport, la cultura del rispetto e dell'integrazione nelle nuove generazioni che diventeranno i tifosi del domani. Un progetto che la Roma ha avviato nelle scuole elementari e medie proprio grazie al sostegno dei suoi tifosi. Insieme a Romolo i tifosi giallorossi di Andria ed intorni hanno potuto abbracciare virtualmente nel rispetto delle norme anti-covid anche la voce ufficiale della Roma Calcio, quel Matteo Vespasiani che carica l'ambiente giallorosso prima delle partite negli eventi romanisti. E tra i primi a far festa è stato Daniele, il tifoso romanista di Terlizzi che grazie alla passione giallorossa si è dimenticato per qualche istante della sua disabilità. Siamo venuti in Puglia a consegnare materialmente le magliette che Roma Calibandira aveva acquistato, ha detto Matteo Vespasiani. Questi ragazzi se lo meritano per il calore, la passione e la partecipazione che ci stanno mettendo a 400 km di distanza. La S Roma crede molto nei progetti di solidarietà e l'apporto dei tifosi sparsi in tutta Italia diventa linfa vitale.